43,9% al centro-sinistra, 43,4% al centro-destra. Questo è il dato di maggior rilievo emerso dal sondaggio dell'Istituto Wimpole, inviato oggi dallo staff di scenari politici. L'analisi si basa sulle 800 interviste rilasciate da altrettanti varesini tra l'11 e il 14 gennaio. Da notare però che il sondaggio non tiene conto del candidato sindaco Roberto Maroni, bensì di una candidatura generica contrapposta a quella del sindaco uscente. Risultato? Un sostanziale testa a testa, mentre il terzo incomodo, cioè un eventuale candidato 5 Stelle, verrebbe sostenuto da poco più del 3%. A proposito di Davide Galimberti e dei suoi cinque anni di mandato, il 44% del campione lo definisce abbastanza positivo, il 10% lo promuove a pieni voti, il 13% lo boccia sonoramente, l'11% lo considera abbastanza negativo, mentre il 22% non prende una precisa posizione. L'esponente PD è però considerato degno di fiducia dal 61% del campione e nel 10% dei casi la fiducia è massima. Il sondaggio Wimpol guarda anche il rapporto tra i varesini e un loro concittadino illustre come Attilio Fontana. Sul governatore il 34% degli interpellati esprime un giudizio abbastanza positivo, il 23% abbastanza negativo, il 20% è incerto, il 17% totalmente negativo, il 6% totalmente positivo. Per quanto riguarda l'emergenza Covid, i varesini appaiono moderatamente soddisfatti della gestione comunale, incerti su quella regionale e generalmente critici nei confronti del Governo nazionale. Il 41% reputa infatti abbastanza positiva la condotta di Palazzo Estense, mentre il 17% la considera piuttosto negativa. Notevole la fetta degli indecisi, ferma al 27%. A Palazzo Lombardia il 19% mostra pollice verso e un altro 29% parla di gestione abbastanza negativa. La promozione invece arriva dal 29%. Venendo al quadro nazionale, 34 punti percentuali per chi promuove l'azione del Governo, mentre la bocciatura arriva dal 48% del campione. Infine uno sguardo alla gestione di materie particolarmente delicate. Quella sanitaria per il 41% è stata affrontata bene dal Comune di Varese, segue il sostegno alle famiglie in difficoltà. Risultati pallidi invece per voci come attività economiche, trasporti e sostegno all'occupazione.